Ciao a tutti, bentornati. Innanzitutto buon anno, auguro a tutti voi un felice 2021 che sia fatto solo di gioia, soddisfazioni, momenti felici e che questo anno appena trascorso sia soltanto un bruttissimo ricordo, nient'altro, da cancellare e appunto che questo nuovo anno che verrà sia fatto soltanto di gioia, nient'altro. Ho deciso oggi di parlarvi della doppia detersione, di che cos'è, di come la penso io, di quella che è stata la mia esperienza personale. Io personalmente fino a qualche tempo fa ero un po' scettica sulla doppia detersione perché temevo che prodotti troppo oleosi potessero andare a evidenziare le zone del mio viso un po' più oleose e quindi che non potesse fare bene alla mia pelle. Vedremo anche avanti a quali pelli è più consigliata o meno la doppia detersione. Io poi mi sono informata, ho letto, ma soprattutto l'ho provata e quindi posso un attimino parlarvi della mia esperienza personale. Innanzitutto che cos'è la doppia detersione? Non è altro che effettuare per due volte una detersione, quindi lavare per due volte il viso con due metodi diversi, quindi si struttura in due step, che chiameremo step oleoso e step schiumogeno o anche rispettivamente metodo per contrasto o anche per affinità o per contrasto. Il metodo oleoso, quindi lo step oleoso o per affinità, vi faccio vedere anche i prodotti adatti per questo step, sono quei prodotti che vanno a sciogliere il sebo sul viso o anche il make-up. Sono prodotti tendenzialmente oleosi per affinità perché vanno a sciogliere il sebo e il make-up, quindi per affinità perché i prodotti simili tra di loro si sciolgono. I prodotti in commercio sono tantissimi, possono essere oli vere propri che si vanno a sciogliere poi sul viso, oppure dei burri tipo questi qui che si presentano in questa consistenza abbastanza solida che poi una volta scaldato sulle mani diventa un olio e scioglie qualsiasi cosa. Con questo io mi trovo benissimo, mi scioglie anche il mascare più antipatico da rimuovere e devo dire che lo sto adorando, questo qui è un formato anche abbastanza grande però penso mi durerà per un bel po'. Al momento come detergente oleoso mi sta piacendo tantissimo. Poi ci sono anche i detergenti oleosi, io ne ho provato uno fino ad ora, ed è questo qui di REN, ed è il Clean Jelly Oil Cleanser, ed è un detergente trifasico, nel senso che si presenta come un gel, poi scaldato sul viso diventa un olio e poi emulsionato con l'acqua diventa schiuma. Quindi per le più pigre che non vogliono, non amano fare troppi step, con questo detergente avete sia la fase oleosa che la fase schiumogena. Mi piace molto, scioglie molto bene il trucco, l'unico handicap che lo rende un po' antipatico è il fatto che mi vale ad appannare troppo gli occhi, troppo la vista. Per il resto mi piace tantissimo, scioglie davvero molto bene, e allo stesso tempo detergia un sacco, perché è anche molto delicato, quindi mi piace. C'è anche da dire che la doppia detersione è consigliata per le pelli normali, per le pelli miste, per le pelli grazie, per le pelli molto sensibili, e anche per le pelli secche, cioè per tutte le tipologie di skin type. È sconsigliata soprattutto per le pelli molto molto sensibili, per le pelli acneiche, quindi per quelle pelli un po' più problematiche, che non necessitano di troppi step, o comunque troppi step andrebbero poi a stressare troppo la pelle, quindi il che non farebbe bene. Quindi per le pelli un po' più problematiche, forse non è proprio consigliata la doppia detersione, però per il resto delle tipologie, quindi per una pelle grassa, andarci a mettere un prodotto oleoso fa bene, quindi dimenticate lo stereotipo che ci vado a mettere un prodotto oleoso, quindi la mia pelle sarà più grassa di prima. No, perché l'olio va a sciogliere il sebo, quindi fa solo che bene. Poi passiamo al secondo step. Il secondo step è lo step, quindi schiumogeno, anche eretto per contrasto, che è quello step che va a catturare quindi tutti i residui di sporco, quindi altro make-up, lo smog, i raggi solari, quindi va a rimuovere tutto il resto che è presente sul nostro viso. Quindi il primo step scioglie, il secondo step cattura ed elimina, in parole povere. E insieme a questi due step non fanno altro che effettuare una pulizia più profonda nella pelle. In commercio anche qui abbiamo tantissimi prodotti, tantissime tipologie, prevalentemente sono schiumogeni, quindi in gel o in schiuma, oppure anche in mousse. Per la mia tipologia di pelle mista io prediligo gel più o meno delicati, non troppo, o anche in mousse, mi piacciono tanto. Vi mostro un po' quelli che ho io e che sto utilizzando negli ultimi tempi. Questi due, ad esempio, sono detergenti in gel. C'è questo qui di Corsix, che è uno degli ultimi arrivati. È un detergente che è molto delicato, consigliato per tutti i tipi di pelle. All'interno ha anche degli acidi, quindi va anche ad effettuare una leggerissima, una piccola percentuale di acidi, una leggerissima esfoliazione, ma allo stesso tempo è delicato e quindi consigliato anche per le pelli sensibili. A me piace perché è detergente molto bene. È praticamente un gel, un gel vero e proprio, che poi emulsionato con l'acqua diventa anche schiuma. E sento che vado a pulire molto bene in profondità anche la pelle. Mi piace anche come lascia la pelle, quindi morbida e per niente tirata. Io, ad esempio, evito quei detergenti troppo sgrassanti perché mi vanno a tirare un sacco la pelle. Chiaramente dovete vedere quale detergente è più consigliabile alla vostra tipologia di pelle. Io parlo per la mia, poi chiaramente ogni tipologia cambia e ogni esigenza è diversa dall'altra. Un altro detergente che sto adorando è questo qui di Fresh, ed è il Soy Face Glitzer. Ed è un detergente, penso sia un prodotto top di questo brand, è iconico, è pluripremiato, credo. È un detergente con soia all'interno, con estratti di soia, se non ricordo male. Ed è anche consigliato per tutte le tipologie di pelle, è consigliato anche e soprattutto per la doppia detersione. Anche questo qui di Corsix è consigliato e adatto per effettuare una doppia detersione, quindi come in questo caso. Questo qui, dicevo, mi piace tanto perché è delicato ma allo stesso tempo anche lui non lascia la pelle che tira, fa una leggera schiuma ma non troppa, si presenta allo stesso modo come un vero e proprio gel. Un po' più, ad esempio quello di Corsix è trasparente, questo qui è un po' più lattiginoso, quindi un bianco un po' più sporco. Anche lui però diventa emulsionato con l'acqua, diventa un vero e proprio, diventa schiuma. Non esageratamente però, rispetto a questo qui di Corsix, forse questo qui fa un po' più di schiuma in più, ma sono molto simili secondo me tra di loro perché sono delicati ma allo stesso tempo puliscono bene secondo me il viso e ritergono anche allo stesso tempo. Altro detergente è questo qui di Origins ed è il Cix & Balances. Lui è anche famosissimo, è un prodotto, anche lui, icona del brand. Si presenta in una consistenza un po' diversa, un po' meno gelatinosa, un po' più consistente. Anche lui è adatto per tutte le tipologie di pelli. Mi piace tanto perché pulisce tantissimo, vi lascia la pelle super super fresca, è un po' leggermente meno delicato, quindi quella leggera sensazione di pelle tirata, parlo veramente di leggera sensazione. Poi comunque andandoci poi ad applicare subito, immediatamente il tonico, quella sensazione va via. Però anche lui mi piace tanto, anche lui è adatto per effettuare la doppia detersione, è bianco quindi non è in gel, è più cremoso come detergente. Infine, altro detergente, ma di questo ci ho fatto una sola applicazione, è questo detergente di Caudalie. Questo qui è il vino più adatto per le pelli misto-grasse, io ho la pelle mista, quindi va bene. Quindi questo qui va a sgrassare un po' di più, ma non eccessivamente. L'ho provato una sola volta, quindi non so dirvi, non lascialo senza... è praticamente in gel. È molto gelatinoso, diventa anche lui schiuma, quindi va benissimo per la doppia detersione. Non lascia la pelle tirare, quindi mi lascia la pelle abbastanza detersa. Non ho un'idea ben chiara di questo prodotto, perché devo provarlo ancora per molto, ma con una sola applicazione non mi è dispiaciuto. Quindi come detergenti schiumogeni, al momento questi tre, questi quattro che sto utilizzando, per la doppia detersione vanno molto bene. Quindi la doppia detersione non è altro che questi due step, quindi oleoso e schiumogeno. Io personalmente la consiglio, la consiglio a tutte le tipologie di pelli, ad eccezione delle pelli molto sensibili, ma molto sensibili, acneiche e problematiche, perché potrebbe essere un po' aggressivo. Però per il resto delle tipologie la consiglio assolutamente. Io personalmente noto una pulizia molto più profonda nella pelle. Quando non l'ho fatta ho avvertito la pelle un po' meno pulita, forse era una sensazione mia, però l'ho avverto. Trovo anche che vado a stressare molto meno il viso, perché faccio tutto con le mani, non utilizzo dischetti, quindi non inquino. Pulisco benissimo anche il trucco occhi, il che mi va molto bene. Quindi il mascara non ho difficoltà ad eliminarlo, quindi non vado lì a strofinare, ad eliminare tutto il mascara. Mi basta passare con delicatezza, con le mani, con il prodotto oleoso. Ed è tutto fatto. Quindi ritengo che sia benefico, almeno per me, questo step in più, chiamiamolo così, perché io fino a poco fa utilizzavo acqua micellare, che ultimamente ho abbandonato, e poi detergente, che possono essere quelli che vi ho mostrato. Quindi lo step oleoso non lo effettuavo. Quindi per quanto mi riguarda, la doppia detersione è assolutamente promossa. Ditemi anche se voi effettuate questo step, se anche voi conoscete la doppia detersione, cosa ne pensate, quali sono i prodotti che amate. Ad esempio io vorrei provare un po' di prodotti oleosi, tipo degli struccanti oleosi, che ho in mente, che vorrei comprare anche da YesStyle. Andate a dare un'occhiata anche su YesStyle, che ci sono un sacco di prodotti, tra cui questo qui l'ho preso da quel sito. Se vi fa piacere, se vi interessa, c'è anche un codice sconto ROSACI20. Vi lascio anche giù il link, e potete approfittare anche di uno sconto in più. Trovo che YesStyle abbia un sacco di prodotti super super interessanti. E fatemi sapere appunto anche i vostri, ditemi che ne pensate. Io come sempre vi mando un bacio grande, e vi auguro ancora buon anno. Ciao!